Benvenuti da Claudio Brachino, questa nuova puntata di Primo Piano, rubrica dell'agenzia di stampa Italpress che vi fa conoscere l'attualità attraverso l'intervista, insomma l'arte più complicata e più semplice del nostro mestiere. L'intervista a un protagonista dell'attualità medesima, non abbiamo limiti di campi sociali come sapete, ma spessissimo tocca alla politica e tocca alla politica oggi perché è tornato a trovarci qui nella nostra sede milanese Guido Guidesi, abbiamo fatto pure una rima involontaria milanese Guidesi. Buongiorno, grazie. Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico della regione Lombardia, rappresentante del partito Lega e insomma era già venuto a trovarci perché già nei primi mesi dello scorso anno insomma che dall'inizio dell'estate insomma abbiamo concordato un'intervista con un esponente politico importante della politica regionale. Allora le domande sono tante, io direi di partire dall'attualità se prego. Se è d'accordo cominciamo dalla manifestazione dei trattori di cui ci stiamo occupando da alcuni giorni, non li ho visti qui sotto, insomma qui in corso di Porta Romana, li abbiamo visti in Francia, li abbiamo visti a Roma, li abbiamo visti a Orte però insomma io volevo un suo parere su questa manifestazione, visto che la filiera agricola è importante in Lombardia, è importante per il suo partito, è importante anche per il suo assessorato. Noi siamo la prima regione manifatturiera d'Europa e la seconda regione agricola d'Europa per cui è un settore assolutamente fondamentale, soprattutto peculiare e primario anche dal punto di vista economico per tantissimi nostri territori a livello lombardo. Secondo me hanno ragione e la loro protesta è frutto ed è conseguente alle scelte surreali, distanti e paradossali e completamente distanti dalla realtà fatti dalla Commissione europea in questi ultimi anni, presi dall'ideologia, presi anche da una supponenza perché è mancato tanto il rapporto con i territori per cui il confronto di eletto con i territori ed è mancata tanto una visione generalista dell'Europa, chi ha fatto il Commissione dell'Ambiente per tanti anni ha pensato probabilmente che l'orto fuori dalla sua casa olandese corrispondesse a tutta Europa, invece non è così, io dico fortunatamente perché l'Europa è diversa, ha tante peculiarità, ha tanti valori da poter esprimere e tu devi saperli esprimere. Io poi voglio tornare all'Europa perché per questo ci permetterà di parlare anche di campagna elettorale, di come ci si arriva a questa campagna elettorale, di cosa può succedere dopo questa campagna elettorale, io questo l'ho detto anche negli editoriali che ho fatto, protesta comunitaria declinata anche poi sui problemi delle singole nazioni o dei singoli territori, quindi prima di tornare al Green Deal europeo e discutere su questo, specificamente sull'Italia si è andata a parlare poi di tasse, di IRPF, c'è stata una posizione anche del suo partito, poi c'è stata una mediazione, mi sembra riuscita sui 10.000, 10.000, 15.000 euro sulle esenzioni, insomma come la vede lei? Perché qualcuno ha detto è la solita corporazione, io ieri ero in un talk con la firma politica del Corriere Fulbini, diciamo i 10.000 euro sono il catastro del terreno, non quanto guadagnano, magari uno ha 10.000 euro di un terreno ma poi guadagna moltissimo perché produce cose, no? E allora dice il solito equivoco all'italiana, come la vede lei da questo punto di vista? Io, ogni settore ha le sue rivendicazioni, no? Le rivendicazioni che poi diventano proposte, che poi diventano proposte che si possono applicare, devo dire che in questo senso il governo ha trovato una mediazione buona, sana, non so se accontenterà completamente le richieste degli agricoltori ma sicuramente... Molti hanno detto oggi sì però, non tutti, molti hanno detto va bene. Una risposta concreta da parte del governo e mi sembra anche una risposta compatta da parte del governo. Senta, invece riguardo all'Europa, torniamo a questo Green Deal, come lo vede lei? Prima per l'intervista diceva che Lombardia è come una lenda, l'abbiamo detto l'altra volta, no? Al di laurea dei confini amministrativi, è un pezzo d'Italia che respira molto di Europa, ma questo Green Deal, l'ha detto prima lei, sembra fatto però con norme, si può essere d'accordo ovviamente che si deve arrivare a quel punto, no? Per salvare il nostro pianeta, per inquinare di meno, però sembra fatto quasi a danno delle filiere produttive, insomma, no? In questo caso di quegli agricoltori, che poi da noi spesso sono molte PMI, non sono molti nazionali, insomma, no? Il Green Deal ha un limite profondo che sta nel metodo, noi sugli obiettivi non discutiamo, sugli obiettivi siamo assolutamente convinti di poter essere protagonisti come la Lombardia nel poter contribuire positivamente al raggiungimento di quegli obiettivi a livello ambientale, ci sono dei problemi a livello ambientale, li possiamo risolvere, sì, arriviamo a quegli obiettivi e ci arriviamo insieme. Qual è l'errore fondamentale di quel percorso? È che l'Europa ha deciso non solo di condividere gli obiettivi, ma di scegliere unicamente e senza condivisione la strada per arrivare a quegli obiettivi e questo è la fine della neutralità tecnologica, per cui è quando finisce la neutralità tecnologica, vuol dire che finisce la libertà d'azione, vuol dire che finisce la capacità di ricerca, di ingegno, di inventiva e di anticipo dei tempi di tutto il nostro ecosistema. Questo è l'errore fondamentale, per cui l'automotive è un esempio su tutti, l'automotive è un suicidio dal punto di vista economico, perché l'automotive si è detto, gli obiettivi sono questi, gli obiettivi sono mobilità e impatto zero, bene, alla mobilità e impatto zero come ci arriviamo? Con una pluralità di trazioni e ognuno decida come arrivarci, noi abbiamo deciso che potremmo arrivarci anche attraverso i biocarburanti con il motore endotermico. L'Europa dice, no ci arriviamo solo di descuridamente con l'elettrico, diceva a suo tempo, consegnando ai campioni dell'elettrico, cioè ai cinesi, vuoi per materia prima, vuoi per capacità dal punto di vista tecnologico, un assist dal punto di vista economico incredibile, per cui è diventato un suicidio dal punto di vista economico nostro. Quando si fanno queste scelte a livello europeo si creano dei danni inenarrabili che sono economici, che diventeranno anche ambientali, ma che sono soprattutto sociali e la causa di tutto questo è la mancanza di questa Commissione europea nell'interlocuzione con i singoli territori, con i territori manifatturieri principalmente, anche e soprattutto con la Lombardia. Senta Guidesi adesso si vota, 8 e 9 giugno, quindi l'Europa cambierà, cambierà come composizione politica, una nuova maggioranza, Ursula von der Leyen si pare che si voglia ricandidare in quel ruolo, insomma questi temi sono stati interpretati dagli analisti come l'inizio della campagna elettorale. Adesso io qui questa intervista stavolta rispetto alla scorsa volta che è venuta con l'elastico proprio in relazione a questo 2024, la porto come vede sempre, che poi la mia visione è glocat, dal territorio al generale. Allora come sarà questa campagna elettorale, che cosa vuole il suo partito, a che cosa punta, che Europa poi si immagina da un punto di vista politico futuro? Beh, spero che sia una campagna elettorale di contenuti, per cui cambia un po', diciamo così, come è iniziata. Beh, questi che abbiamo affrontato adesso sono... Sì, no, fino adesso devo dire di sì, però mi immagino una campagna elettorale, ecco, che continui in un dibattito di questo tipo e che non sia una campagna elettorale completamente strumentata. Da europeisti, sovranisti e popolisti. Esatto, perché oggi il dato di fatto è che coloro i quali si sono assegnati la patente di europeisti, sono coloro i quali difendono totalmente le scelte che l'ultima Commissione europea ha fatto, in toto, le difendono in toto, senza analizzarle, senza valutarle nelle conseguenze. Questi sono quelli che stanno attentando all'Europa, sono quelli che rischiano di cancellarla all'Europa. Io vorrei un'Europa, quella che mi hanno insegnato a scuola, per cui solidale, solidaristica. Questa l'abbiamo vista durante la pandemia, per esempio, due, tre, quattro strumenti... Beh, PNRR, le cova di fan sono un frutto di questo. Ma anche gli strumenti a garanzia per il credito delle imprese, di cui avremmo tanto bisogno in questo momento. Ecco, quel tipo di Europa per me è l'Europa delle regioni. L'Europa si è aperto un dibattito sulla competitività europea, qualche italiano famoso se ne sta anche occupando di questo. Certo Draghi, però. Esatto. L'Europa sarà competitiva solo ed esclusivamente sarà ancora produttori, per cui se ripartirà dal sostegno e dall'investimento sui territori manifatturieri, evidentemente c'è un interesse anche Lombardo in questo. Noi cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di unire le forze tra le regioni manifatturiere europee per cercare di avere il peso necessario dal punto di vista dell'ascolto e dell'influenza rispetto alla prossima Commissione europea, che avrà solo un dovere, dal mio punto di vista, essere realista, perché l'ultima non lo è stata per niente. Senta, senza trascinarla ora in questioni generali, le alleanze possibili, dove si muove il suo partito rispetto a Fratelli d'Italia, ricordiamo comunque che in una campagna elettorale si vota con voto proporzionale. Certo, ognuno fa la sua insomma. Ognuno fa la sua, poi c'è chi dice che questo si rifletterà sulla coalizione, poi vedremo. Ma non è mai successo. Bisogna sempre dire che ogni competizione ha una sua razza in sé, al di là poi delle analisi politiche che si fanno. Invece vi voglio fare una domanda importante, perché ha visto cosa è successo con lo stretto di Babbel Mandeb, a noi ci ha fatto una copertina alla ragnatela del diavolo, una cosa che accade in un punto e poi produce un effetto attraverso una navigazione più lenta, più lunga, di aumento dei prezzi, danni sulle nostre economie. Magari mi ritrovo una cosa che compra il supermercato che costa il doppio rispetto a quello che poteva costare prima. Questo è un po' il mondo di oggi, in gran parte globalizzato. Quindi la politica estera riguarda anche i territori. Insomma l'Europa è chiamata quest'anno delle risposte importanti. Ha visto cosa ha detto Trump? A Salvini piace Trump. Innanzitutto speriamo che l'Europa abbia delle risposte e affronti queste risposte. Sulla Nato, sull'Ucraina, sul Medio Oriente, sul fatto di avere una difesa comune. La nuova Europa deve affrontare anche questi temi. Deve affrontarli, assolutamente sì. Guardi, io le faccio due esempi nello specifico. Oggi uno dei soggetti, diciamo così, più importanti a livello europeo, che è la Banca Centrale Europea, ha scelto di rispondere ad un'inflazione non tradizionale con una ricetta tradizionale. Evidentemente i risultati sono lì da vedere. Per cui ha completamente bloccato gli investimenti delle imprese. Quando blocchi gli investimenti, blocchi l'innovazione e blocchi anche il raggiungimento degli obiettivi che ti sei prefissato. Per non parlare delle famiglie a quel modo da tasso variabile. Gli obiettivi ambientali, le famiglie limitate nei consumi, è tutta una questione che diventa di danno dal punto di vista economico. L'inflazione è dettata, e oramai lo sappiamo tutti, la causa principale di questa inflazione è la speculazione finanziaria sui costi energetici. L'Europa, al posto di badale a limitare la speculazione finanziaria sui costi energetici, ha deciso di applicare una politica monetaria dove la speculazione finanziaria sui costi energetici non c'entrava assolutamente niente. E questo è un esempio. Noi abbiamo un altro esempio dove noi viviamo in un contesto europeo, noi siamo prima regione manifatturiera d'Europa, lo facciamo con dei limiti incredibili dal punto di vista delle competenze e dal punto di vista delle risorse. Perché rispetto ai nostri competitor cugini, i land tedeschi, la catalogna e così, noi abbiamo molte meno competenze rispetto allo Stato centrale e molte meno risorse da poter utilizzare rispetto allo Stato centrale e rispetto ai nostri partner e cugini. Un mercato equo, una concorrenza equa dovrebbe stabilire che noi giochiamo la partita a darmi pari degli altri, per cui partiamo dagli stessi blocchi di partenza. Ed è per questo che noi chiediamo con insistenza al governo italiano di affrontare molto velocemente il tema dell'autonomia, perché dalla nostra parifica rispetto agli altri dipende il traino che noi possiamo fare positivamente a livello economico per tutto il paese. Era la mia ultima domanda, ma siccome l'ha detta prima, gliela faccio subito. Prima di venire qui, io tutta la mattina, ancora oggi, leggo i giornali, faccio il giornalista, come mi hanno insegnato da picco, insomma, che si leggono le notizie. C'è un sondaggio di Pagnoncelli che dice che poi il 41% degli italiani è favorevole, ma c'è una buona percentuale, siamo poco sotto il 30%, che non sa neanche di che cosa si parla. Lei che cosa pensa? Poi alla fine proviamo a dare una risposta, questo è un pubblico 120 televisioni locali collegate, 400 siti, un'agenzia di stampa, dovrebbe avere, insomma, anche il compito di essere chiave. Io lo so, devo spiegare, sai che molta gente davvero, quando un po' il LEP... Lo faccio nel mio ruolo, per cui non da rappresentante di un partito, ma nel ruolo che oggi rappresento e nel servizio che sto cercando di prestare in questo ruolo. Io rappresento le imprese del mondo economico Lombardo, ok? L'autonomia, l'arrivo dell'autonomia cosa può provocare? Può provocare il fatto che noi giochiamo nel contesto europeo, perché tutte le nostre filiere hanno bilanci commerciali non a livello nazionale, non confinate nel livello nazionale, ma nel livello europeo, per fortuna, giochiamo a darmi pari rispetto agli altri. Per cui noi ne traemmo sicuramente un vantaggio economico, ma nel trarne un vantaggio economico la Lombardia per le sue aziende dal punto di vista concorrenziale ne trae automaticamente un vantaggio economico tutto il Paese, perché noi siamo il traino di tutto il Paese. E se il Paese, come penso io, vuole che la Lombardia continui ad essere la sua locomotiva, deve metterla nella condizione degli altri e di poter competere a darmi pari con gli altri. È per questo che è convenienza anche delle regioni del Sud che la Lombardia sia messa alle stesse condizioni degli altri. L'ennesima, io faccio un po' l'avvocato del diavolo, non è un tol che devo fare domande, la preoccupazione di molti, di tanti, però insomma, e devo dire anche di diverse estrazioni intellettuali e politiche che si aumentino le disuguaglianze che già ci sono. È strumentale, le disuguaglianze saranno aumentate nel momento in cui la Lombardia non potrà più essere trainante dal punto di vista economico, perché noi ne siamo traino, ma il gettito fiscale finisce al centro, per cui ne godono tutti, non cito i dati del residuo fiscale che sono noti, ma comunque sono tecnicismi. Chi assume quella posizione, assume una posizione strumentale, assume una posizione politica da questo punto di vista. Io, se fossi un governatore delle regioni del Sud, sarei molto contento di tutto questo, perché mi consentirebbe maggiori responsabilità, maggior potere decisionale, maggiori risorse su cui poter lavorare. E quale sarebbe il mio obiettivo? Quello di mettermi alla pari della Lombardia, di cercare di raggiungere la Lombardia. Questa deve essere la sfida di un governatore con l'autonomia. Senta, per parlare della situazione economica lombarda, ultima domanda, anche che vedo che il tempo scorre, so che lei poi ha da fare questa mattina, quindi dobbiamo essere ceneri, sa che l'unica regola di questo format è il tempo, poi dopo il resto possiamo fare qualsiasi cosa. Gliela prendo anche qui alla larga, questa volta non con la situazione internazionale, quindi l'Europa, il mondo, ma proprio l'Italia in tutta, dal report che ha fatto il governatore di Banca Italia, Panetta, ex membro del board dell'ABCE, e lo ricordo a chi ci segue, molto critico sempre con le scelte della Lombardia, io ci ho fatto un titolo del settimanale che dirigo quest'estate, quando Panetta aveva paragonato la politica monetaria dell'ABCE, per descriverla aveva usato una canzone di Battisti, molto famosa, che insomma, quelli che sono non proprio giovanissimi si ricordano, guidare affari spenti nella notte, io avevo scritto su una guida affari spenti nella notte, bellissimo, la Battista è quasi masca, ci si mascolerà da qualche parte. Allora, nel report Panetta dice l'inflazione è sotto controllo, arriverà sicuramente a questo mitologico 2% del 2024, quindi ci sono le premesse per un taglio dei tassi, ma l'ABCE ancora non fa annunci, quindi noi non sappiamo, questo è importante in termini di psicologia del mercato e di quello che poi i cittadini vogliono sapere, riguarda la nostra economia, luce e ombre, le ombre sono soprattutto i salari inadeguati, ma adeguarli non vorrà dire aumentare l'inflazione, e mi ha colpito questa cosa sostanziale tenuta a solidità delle nostre aziende. Ecco, questo è il quadro, da questo quadro andiamo a finire poi alla Lombardia, alle aziende lombardie. Ed è così, anche il tasso di occupazione, una contingenza negativa come questa, pur avendo smentito i gufi, e già questo è sempre un risultato positivo, prima, fino a qualche anno fa, aveva concretamente un risultato negativo dal punto di vista dei dati occupazionali, dal punto di vista degli ammortizzatori sociali, eccetera, eccetera. Oggi non è più così, proprio perché le aziende sono molto più stabili, molto più maturi nell'affrontare le contingenze economiche che vengono influenzate, purtroppo solo negativamente, speriamo che ci sia una influenza positiva, sempre sovraterritorialmente e sovraregionalmente. Per cui oggi c'è questo dato positivo. Il secondo dato positivo è il saldo occupazionale, l'occupazione tiene ed è un dato estremamente positivo. Panetta ha ragione assolutamente, noi ci aspettiamo due cose che purtroppo non dipendono da noi. La prima è che la BCE annunci il taglio dei tassi, perché siamo convinti che nel momento in cui lo farà noi ripartiamo, noi stiamo pagando doppiamente questa situazione della politica monetaria, perché noi vinciamo la competizione a livello internazionale non attraverso i costi, ma attraverso l'anticipo dei tempi. Ingegno, innovazione, per cui l'investimento si fa con l'accesso alla liquidità. Il secondo intervento che ci aspettiamo è che il governo detassi completamente tutte le questioni di aumento dell'indenità degli stipendi e tutte le questioni dei premi di produttività. Lasciamo alle aziende, che lo sanno fare benissimo, le scelte di aiuto e sostegno ai propri lavoratori, anche attraverso contrattazioni di secondo livello, anche attraverso il welfare aziendale. Noi da questo punto di vista... Che parlano mai tutti, anche quelli che vengono qui aiutare il PES economici, parlano mai del welfare aziendale. E non si faccia questa cosa, va detassato completamente quella situazione lì. Lo Stato non può decidere per le aziende. Lasci liberi le aziende di poter lavorare, perché all'interno delle aziende c'è grande rispetto della gerarchia, ma tutti hanno la stessa maglia, tutti giocano la stessa partita, tutti vogliono raggiungere gli obiettivi che i propri datori del lavoro ha prefissato. Allora in quella comunità, che è la comunità aziendale, noi dobbiamo lasciargli liberi di poter mettersi a servizio dei lavoratori e delle famiglie dei loro lavoratori. In Lombardia, da questo punto di vista, ci sono tanti esempi molto positivi. Abbiamo bisogno che lo Stato ci liberi dalla limitatezza della pressione fiscale e dell'imposizione che riguarda invece un aiuto ai consumi e che per cui vuol dire una risoluzione all'aiuto dei consumi, che vuol dire maggiore economia, maggior ciclo economico e maggior benessere per tutti. Senta, questa regione è un po', è una delle patrie delle PM italiane, lei è stato sempre molto attento a questo, anche quando è venuto qui ce ne ha parlato, ci ha parlato di iniziativa che voi fate per le aziende, dalla formazione, le istituzioni di premi che servono anche per dare un riconoscimento, insomma, ci vuole dire una cosa, lanciate un'iniziativa che fate che non ne abbiamo parlato, così insomma, rispetto all'ultima volta che ci siamo visti, noi siamo passati attraverso una fase esperimentale da una visione di categorie, di imprese, per cui commercianti, artigiani, industria, per cui una visione abbastanza ordinaria, siamo passati ad una visione invece straordinaria e settoriale. Oggi noi abbiamo due o tre strumenti che riguardano gli ecosistemi, per noi l'ecosistema è fatto da un capofila che ha il protagonismo a livello internazionale, solitamente un'industria, tutti i suoi fornitori lombardi, l'università che gli aiuta nella ricerca, l'ITS, il centro di formazione professionale che forma e aiuta i futuri dipendenti, per cui tutto l'ecosistema, a volte anche gli istituti di credito che decidono di ricordarsi di essere anche degli sviluppatori economici e non solo della raccolta, raccoglitori di risparmi. Per cui ci muoviamo strategicamente da questo punto di vista. Perché abbiamo fatto questa scelta? Quando siamo diventati un anno fa la prima regione manifatturiera d'Europa, ci siamo avvalsi di un piano industriale, il piano industriale perché? Perché vogliamo continuare ad essere la prima regione manifatturiera d'Europa e per esserlo abbiamo deciso di lavorare sugli strumenti, sui settori dove noi ci muoviamo rispetto alle esigenze dei settori e non omologhiamo rispetto alle esigenze istituzionali. Chiaro, ultima domanda. Lo Stato generale della politica economica di questo governo, anche qui c'è chi dice ma insomma PNRR è così così, la crescita è così così, i numeri sull'occupazione sì sono positivi ma poi visti nella qualità non risolvono i problemi veri dei giovani e delle donne, invece altri dicono però in fondo tutti i numeri dallo spread all'occupazione alla crescita che tutto sommato tiene anche rispetto ai paesi come la Germania che una volta erano insomma molto più avanti di noi tranne che sui salari dove su tutti è abbastanza d'accordo che siamo indietro rispetto ai principali competitor europei però insomma la nostra economia alla fine va qual è il suo giudizio perché poi anche essere positivo o essere negativi ha un valore nella comunicazione assolutamente come la ragata se sta zitta ha un valore se dice giugno ne è un altro se dice aprile ne è un altro se dice ottobre ne è un altro per proposito dell'annuncio del taglio dei dassi il governo ha fatto bene dal mio punto di vista rispetto alla disponibilità che aveva per cui è riuscito a tenere i conti a posto e dall'altra parte a creare una situazione dal punto di vista economico estremamente virtuosa l'occupazione può essere guardata nei minimi dettagli se vogliamo trovare il cavillo ma la verità è che il saldo occupazionale è estremamente positivo e nella storia italiana non c'è mai stato un dato occupazionale così positivo ed è quello che conta dal mio punto di vista lo dico da assessore alle aziende può fare qualcosa in più il governo beh io sto diciamo così alle richieste precedenti cerchi di delegare il più possibile il ruolo di messa a terra degli strumenti alle regioni perché la grande forza all'interno della nostra regione ma credo anche di tutto il paese sta nella differenza morfologica ma anche e soprattutto economica sociale dei singoli territori la valorizzazione di quelle peculiarità la possono fare solo ed esclusivamente le regioni ma se viene fatta vuol dire creare degli ecosistemi davvero eccellenti che guardano il futuro e che anticipano i tempi Settio la ringrazio grazie a lei la rinvito a un fact-checking a questo punto dopo l'elezione europea o subito prima vediamo stiamo pensando di fare un primo piano che questa è la prima rubrica che ho fatto dal 2020 per l'agenzia di stampa Italpress ogni tanto la decliniamo qui in Ale europei di calcio ci sono anche gli europei di calcio che stanno dicendo europei e europei insomma e quindi magari ci sarà l'occasione anche di rivederci anche prima dell'8 giugno insomma grazie davvero buon lavoro grazie a voi insomma è importante su questo tema Guido Guidesi della Lega Assessore allo sviluppo economico della regione Lombardia grazie ancora e grazie a voi che ci avete seguito appuntamento alla prossima puntata di Il Primo Piano arrivederci